Poi ti dicono che vai piano, capito? Mi ho sbagliato Dove stiamo andando? Con le meloni, giusto? Perché non c'è nessuno a questo... Siamo al mare Fausto E' sempre bello vedere il mare, però Anche quando arrivo con la bici L'ho fatto diverse volte Andare fino al mare Girate a sinistra C'è una faccia di... Hai uno Dove stiamo andando Fausto? Andiamo alla ferrata degli artisti Finalmente E dove? Siamo a Magliolo, una frazione di Magliolo Finale Ligure, no? Siamo sopra Finale E siamo soli io e Fausto Speriamo bene Sì 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 Arrimo? Sì sì? Sì sì? Sì sì? Sì sì? 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 Sì, ci sono dei pezzi che spianano. Al mare si vede da qua. Sì? Sì? a 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 eccoci qua muoversi certo si muove non so in mezzo magari si muove di più si muove c'è poco da fare non lo so si muove abbastanza Pausto importante che ti tieni così troppo vento troppo vento troppo vento lì si muove di più un'altra volta dai si si che qua all'inizio lo fai non si muove tanto lì si piega proprio no non è difficile boh eh se c'è vento aspettiamo un pochino ma non dovrebbe succedere niente in teoria fino a qua ci siamo arrivati a un altro pezzo tanto c'è il sentiero non so dove va eh praticamente passeremo lì e ti riattacchi non fai il ponte eh pazienza vabbè io ho fatto un pezzo dai vuoi fare un pezzettino attravo un po' più grande che ti sente Alla prossima Grazie a tutti. 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 Tutto a posto, però il monte tibetano... No, 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 no... Molto, molto. Ma consiglio a chiunque. Ponte tibetano purtroppo ci dava il giro. Però per il resto è adrenalinica. Buongiorno! Sarà scelto il servizio. Buongiorno! Non c'è nessuno. Magari ci facciamo noi. Buongiorno! Buongiorno! Ma non è che bisogna suonare, c'è un campanello fuori. Oh! Ah! Ah! Qua c'è un campanello! Buongiorno! 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 Buongiorno!